Ciao a tutti, sono Umberto, lavoro nella pubblica amministrazione in presidenza del Consiglio dei Ministri al Dipartimento della Protezione Civile. Qui io mi occupo principalmente di sviluppo software e sicurezza. Perché questo talk? Perché spesso, sempre, si parla della pubblica amministrazione come una realtà poco attenta ai temi della sicurezza. Tante volte è stato così, tante volte i temi portati avanti dalla pubblica amministrazione nel campo della sicurezza non sono poi stati così esaustivi da far capire che nella pubblica amministrazione comunque la sicurezza, in questo caso la sicurezza informatica in particolare, è presa in maniera molto seria. Quello che andrò a trattare è un tema molto importante che personalmente sto cercando anche di far implementare. Ovviamente prima dell'implementazione nella pubblica amministrazione si passa per l'analisi di quello che questo può comportare, la normativa che magari consente di fare un certo tipo di azione, ma l'intenzione di implementare questo c'è. Quindi parliamo di responsible disclosure policy. È un tema che nella pubblica amministrazione è stato avviato e quindi viene rendo merito da Gianluca Varisco quando ha iniziato a prendersi cura della sicurezza all'interno del team digitale. Ed è una cosa che noi che continuiamo a lavorare nella pubblica amministrazione stiamo cercando di portare avanti. Da cosa si parte? Si parte innanzitutto dall'idea che la protezione dei sistemi di Information Communication Technology e i dati da problematiche di sicurezza deve essere una delle basi fondanti di ogni organizzazione, in questo caso appunto della pubblica amministrazione. L'obiettivo è quello di fare un continuous improvement dei sistemi, andare quindi a identificare e a risolvere le vulnerabilità che vengono mano a mano riscontrate. Non andrò a trattare ovviamente temi che riguardano GDPR e quant'altro ma è di fatto tutto quanto collegato perché nel momento in cui un sistema viene violato ovviamente possono essere violati anche i dati che sono contenuti all'interno del sistema stesso. Riguardo la vulnerability disclosure non è nulla di indentato nel senso che questa è già definita, ben definita e strutturata nell'ISO 29147 dove appunto si vanno a identificare delle linee guida su come andare a ricevere delle segnalazioni su potenziali vulnerabilità, su come queste devono essere divulgate e quindi darne informazione. Le tecniche per la divulgazione delle vulnerabilità vengono portate negli allegati anche degli esempi. Quindi diciamo che se nella pubblica amministrazione dovesse andare a inquadrare un aspetto normativo sicuramente l'ISO in questione aiuta tantissimo. Scusa Alberto ti interrompo un secondo perché noi continuiamo a vedere la prima slide e non le altre scorrere e quindi adesso stanno scorrendo, quindi parte pure da quella dell'ISO che comunque ecco questa è quella che dovrebbe essere già corretta. Sì, perfetto. Quindi dicevo che per la pubblica amministrazione che comunque dovrebbe normare un'iniziativa, un'attività del genere, il fatto che ci sia dietro già uno standard, in particolare l'ISO 29147, questo agevola non poco il processo di formalizzazione dell'attività. Che cos'è la Responsible Disclosure Policy? Non è altro che un approccio che permetta di segnalare vulnerabilità fornendo ad un'organizzazione la possibilità di identificare ed applicare delle contromisure per risolvere quella vulnerabilità riscontrata. È un processo di reporting controllato ed etico dove un esperto di sicurezza, un ricercatore, può aiutare aziende, quindi pubbliche amministrazioni, a identificare questi problemi, fornendo di fatto un contributo essenziale. Purtroppo sui giornali abbiamo spesso letto di comunicazioni, notifiche di vulnerabilità che purtroppo poi si sono tradotte in una denuncia nei confronti delle persone che andavano magari in maniera etica a segnalare determinate problematiche. Andare a implementare una Responsible Disclosure Policy di fatto aiuta e supporta chiunque voglia collaborare, in questo caso con la pubblica amministrazione, a stare sicuro che comunque una notifica di una vulnerabilità non si traduca ovviamente in una denuncia legale. Questo è uno dei principali approcci. Che cosa vuol dire implementare una Responsible Disclosure Policy? Vuol dire andare a definire una serie di regole trasparenti, di fatto dei processi, per andare poi a segnalare la vulnerabilità con una politica di divulgazione responsabile. Quindi nel momento in cui un ricercatore o un esperto di sicurezza vada a scoprire una vulnerabilità, deve essere dotto di tutti quelli che sono i passaggi che deve effettuare per la notifica stessa. Magari pubblicando una chiave per andare a inviare in maniera sicura la notifica, un'email dove deve essere contattati. Il processo può essere di fatto libero, però deve garantire che il soggetto anche in maniera anonima possa comunicare e notificare l'anomalia riscontrata. Ovviamente ci sono degli aspetti importanti da affrontare sia da parte di chi segnala sia da parte di chi riceve. Chi segnala ovviamente nel momento in cui viene a conoscenza, scopre una vulnerabilità, non deve ovviamente causare dei danni al sistema stesso. Quindi non deve salvaguardare gli utenti da danni o perdite. Deve sempre comportarsi in conformità con la normativa e i regolamenti applicabili, chiedere ovviamente supporto nel caso vi sono dei dubbi, ma soprattutto non si devono mai sfiltrare eventuali dati o informazioni che sarebbero, grazie alla vulnerabilità, facilmente raggiungibili. E ovviamente al rilevamento della vulnerabilità deve andare ad informare l'organizzazione. Chi riceve la segnalazione? Ecco, qui ecco perché avevo detto l'aspetto legale. Innanzitutto non si deve trattare il segnalante come fosse un attaccante. Un soggetto che si rivolge all'organizzazione segnalando una vulnerabilità, quindi utilizzando la disclosure policy, di fatto ci sta dando supporto, non è una persona che ci ha attaccato e quindi ha creato danno alla nostra organizzazione. Ovviamente deve attivarsi per l'analisi e riscontro di quanto segnalato, risolvere in un tempo anche abbastanza consono la vulnerabilità, per poi andarla a notificare, attivare iniziative come bug bounty o all of fame. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, nel 2017, se non erro, 18, abbiamo organizzato un hackathon collegato al progetto di Developers Italia, dove chiunque poteva andare a collaborare con la pubblica amministrazione portando un proprio contributo. Quindi la pubblica amministrazione, se volesse sposare delle iniziative che puntano a una maggiore sicurezza dei propri sistemi, per esempio potrebbe attivare anche delle iniziative di bug bounty. Questo è anche al di fuori da iniziativa di Responsible Disclosure Policy. La pubblica amministrazione ovviamente può beneficiare nell'implementare un RDP, a parto che ovviamente capisca l'importanza della sicurezza ICT, della propria organizzazione. Oggi, anche grazie al GDPR, all'interno della pubblica amministrazione c'è una maggiore attenzione a quella che sono i servizi esposti, i dati gestiti, ma perché la si vede soprattutto come una problematica che poi espone la pubblica amministrazione stessa e quindi il management ha problematiche col garante stesso. Però diciamo anche questo è un modo per avvicinare la pubblica amministrazione all'importanza del tema della sicurezza. Non veda la Responsible Disclosure Policy come un'iniziativa rischiosa, ovvero la Responsible Disclosure Policy non è di fatto un invito ad essere attaccati, è semplicemente una modalità con cui si viene manifestata l'intenzione e quindi il processo attraverso il quale si può cooperare con l'organizzazione stessa. Conosca bene i propri servizi CT e quelli da includere nella policy, ovvero una pubblica amministrazione, nella policy vengono identificati quelli che sono gli asset più importanti e che quindi si mettono sotto RDP. Ovviamente per fare questo c'è la necessità di conoscere bene quali sono i collegamenti dei propri servizi, come sono esposti, molto probabilmente ci sarà dietro un fornitore che li supporta, ma comunque l'organizzazione stessa deve ovviamente conoscere e quindi sapere cosa fare nel momento in cui viene avvisata di una vulnerabilità. Ovviamente sia strutturata e organizzata per rispondere a segnalazioni. Attualmente nella pubblica amministrazione non esiste la figura di Chief Information Security Officer, ma ci sono delle figure che di fatto svolgono questo compito. Ecco, la pubblica amministrazione oggi comunque ha una complessa anche organizzazione che parte dal CERT, dal CERT e da una serie di organizzazioni che ruotano attorno al tema della sicurezza informatica che sicuramente possono dargli supporto nel momento in cui ci si trovi davanti a risolvere una problematica di sicurezza. Alcuni esempi italiani di applicazione della Responsible Disclosure Policy, Team e FastWeb che sono due dei principali aziende nel campo delle comunicazioni. Last but not least, PagoPA e SPA che di fatto è l'azienda pubblica, perché di fatto pur essendo privata è un'azienda pubblica, che sta dietro all'app Io, ovvero l'app di erogazione dei servizi della pubblica amministrazione. Loro hanno implementato una Responsible Security Policy dove vanno di fatto a evidenziare sia quali sono i passaggi da effettuare, sia i tempi in cui si andrà a risolvere la problematica stessa. Io ho terminato la breve presentazione perché di fatto avevo in circa una ventina di minuti, però ecco quello che volevo evidenziare è proprio l'opportunità che oggi ha la pubblica amministrazione di sposare delle iniziative di vincinanza tra esperti di sicurezza e community nel campo della sicurezza. Noi, non nel campo della sicurezza per esempio, ma per esempio in questo momento che c'è stato il Covid, abbiamo molto beneficiato del rapporto con esperti e community nel campo dei dati in questo caso. Noi ci siamo occupati dell'erogazione dei dati e delle informazioni del Covid-19 a livello nazionale e il rapporto con tutti questi soggetti esperti di dati ci ha dato un forte impulso nell'andare a operare in maniera corretta. Quindi la stessa cosa si spera di raggiungerla nel campo della sicurezza appunto con l'implementazione di un RDP. Grazie. Bene, grazie mille Umberto. Ricordo che se qualcuno ha delle domande può porle nella chat interna, pure togliere i mute se è nella videoconferenza o tramite gruppo Telegram o addirittura Twitch. Nel frattempo vi faccio una domanda, io che in realtà forse sono anche più di una, però in realtà cominciamo con una, che riguarda appunto il rapporto della pubblica amministrazione, in particolare dell'amministrazione centrale con le community di sviluppatori. Allora a questo punto vi chiederai di illustrare brevemente l'iniziativa Developers Italia. di cui hai anche accennato, insomma. Sì, allora, io in questo momento come ho detto lavoro sempre in presenza del Consiglio dei Ministri, ma in protezione civile. Quando è partito il progetto di Developers Italia, ero all'Agenzia per l'Italia Digitale, dove tra le varie cose proprio in quel periodo avevo preso la guida tecnica del progetto Speed. Il progetto Speed che è stato uno dei, diciamo, dei primi progetti inseriti all'interno di questa community. Che cos'è Developers Italia? Developers Italia è proprio lo strumento che avvicina il mondo delle community, delle aziende, di chiunque sviluppa per la pubblica amministrazione o potrebbe sviluppare per la pubblica amministrazione con la pubblica amministrazione stessa. È un punto dove si va a condividere, come lo stesso CAD di fatto richiede, tutto ciò che viene sviluppato nella pubblica amministrazione ed è un grande indice di repository, perché poi come repository vengono di fatto utilizzati GitHub, piuttosto che GitLab e altri servizi repository, dove quindi si trovano librerie, SDK, documentazione, esempi di codice, ambienti di test per andare a implementare quelle che sono le cosiddette piattaforme abilitanti, questo di partenza. Quindi voglio implementare Speed nel servizio del mio comune o utilizzare Pago.pa o la CIE o ANPR, tutto il codice che viene sviluppato viene rilasciato e notificato su Developers Italia. Nel 2018, se non ricordo male, è stato organizzato un grande hackathon con varie sedi in tutta Italia, dove di fatto le community hanno partecipato in maniera molto sostanziale allo sviluppo di componenti. È anche un modo per sviluppatori, ma anche esperti di sicurezza di fatto, perché ovviamente in un software possono nascondersi delle vulnerabilità, anche di, tra virgolette, mettersi in mostra e cooperare. Quindi, diciamo, è una piattaforma che punta a mettere in comunicazione i tecnici delle pubbliche amministrazioni con i tecnici e gli esperti delle community e privati, insomma. Bene, allora grazie per questo approfondimento. Un'altra domanda barra nota riguarda il collegamento del lavoro che fate voi adesso con la protezione civile, con le comunità che si occupano di dati, di open data. Materialmente voi rilasciate ogni giorno i dataset, in particolare sul Covid c'è stato, sulle situazioni aggiornate, praticamente la situazione delle nuove persone che rimangono contagiate, eccetera, eccetera. E questa cosa io ho visto che all'inizio è stata un po' ignorata dai giornali, poi è diventata sempre più importante e poi è diventata proprio una cosa fondamentale. Allora, rispetto a questo ruolo che avete avuto, molto importante, voi avete avuto consapevolezza fin da subito oppure vi siete in qualche maniera poi resi conto, strada facendo, anche del maggiore utilizzo da parte di giornali, di persone che facevano dashboard che in un certo punto c'erano sempre queste dashboard, sempre di più. Sì, allora, il tema è stato questo. Ovviamente bisogna informare la cittadinanza di quella che era l'evoluzione di un fenomeno che fino ad ora, diciamo, era unico, non c'era mai stato, non era mai avvenuto con questo interesse. Quindi la cittadinanza richiedeva informazioni, tanto che il Presidente del Consiglio ha chiesto al nostro capodipartimento ogni sera di fare una conferenza stampa. Inizialmente i dati erano un PDF che venivano dati ai giornali in modo che potessero poi segnalare le informazioni attraverso i propri articoli. Poi anche grazie alla spinta di organizzazioni come Comodata, Data Ninja o singoli esperti di dati, l'idea è stata quella di provare a fare, tra virgolette, scuola, ad avviare una nuova modalità di erogare i dati per la pubblica amministrazione che era quella di non rilasciare solo PDF ma dei dati in maniera strutturata che potessero essere poi facilmente ingeribili da rappresentazioni, dashboard, analisi, studi e quant'altro. Vedi, questo è un po' quello che di fatto stiamo provando a fare con la Responsible Disclosure Policy. C'è sempre la necessità di partire da un progetto. In questo, per esempio, c'è la forza del progetto dell'app Io che l'ha sposata, che l'ha implementata. Quindi, mano a mano che le pubbliche amministrazioni iniziano a utilizzare certi meccanismi di fatto poi diventano un'iniziativa propria della pubblica amministrazione. Almeno, purtroppo, da noi funziona così. È un processo lento, ma poi ci si arriva. È importantissimo il contatto, quindi, tra le community e la pubblica amministrazione stessa. Ovviamente noi avevamo pensato alla modalità di erogazione del dato. Io, provenendo dall'esperienza fatta in Agid e col team digitale relativa a Developers Italia, ovviamente utilizzo, utilizzavo già e conosco bene la piattaforma GitHub, quindi abbiamo pensato di rilasciare i dati, non in un formato a scaricare dal sito o quant'altro, ma mettere su di fatto un processo che poi, con nostro grande piacere, diciamo, è stato visto da giornali come un caso d'uso da iniziare a sviluppare all'interno della pubblica amministrazione. È importantissimo per noi della pubblica amministrazione partecipare a questo genere di eventi, perché di fatto qui veniamo in contatto con tutta una serie di esperti che magari hanno voglia di fare idee e quant'altro, ma magari non riescono mai a capire con chi venire a contatto, o magari siamo noi che non riusciamo a far capire le iniziative che facciamo internamente. Quindi, innanzitutto ti ringrazio per l'invito e invito ovviamente chiunque a, diciamo, a mettersi in contatto nel momento in cui voglia collaborare o voglia segnalare eventuali vulnerabilità che riscontra. Grazie. Un'ultima cosa riguarda un po' il tuo percorso personale. In sostanza, tu hai detto, parli con pubblica amministrazione, volevo capire come sei arrivato alla pubblica amministrazione, se sei dall'inizio, oppure hai parlato del team digitale, quindi se prima non eri nella pubblica amministrazione e sei arrivato grazie al team digitale. Allora, io ho lavorato i primi dieci anni della mia vita in aziende informatiche, anche grandi, per poi arrivare ad un certo punto a sposare il progetto di una piccola azienda del Terramano che era il momento dei primi tom-tom, per intenderci, che lavorava appunto nel campo dei sistemi satellitari. Quindi mi era flippata quella voglia, diciamo, di lavorare con i dati geografici satellitari e quindi abbandonare una grande azienda per andare a lavorare in una piccola. E qui di fatto ho fatto una crescita molto più veloce. Dopodiché ho partecipato ad un concorso per la Camera di Commercio di Terramo, dove mi sono occupato di informatica, quindi gestivo tutta la parte informatica dell'ente. Dopodiché che cosa è successo? Io partecipavo a degli hackathon. Nel 2015 ho partecipato al Big Gag che si è tenuto a Roma e ho vinto la sezione relativa appunto ai dati, all'open data, che era sponsorizzata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Agid in particolare. Dopo aver vinto questo uno dei dirigenti che era lì alla premiazione ovviamente ha voluto conoscere me e il team, eravamo tre persone di fatto che partecipavamo, che avevamo vinto, e quando ha saputo che lavoravo in una pubblica amministrazione mi ha proposto quello che si chiama il comando. Il comando è un modo per spostare i dipendenti della pubblica amministrazione da un ente all'altro. Ecco, questo è stato di fatto il mio arrivo a Roma, io sono abruzzese, quindi grazie a un hackathon io mi sono ritrovato a lavorare in presidenza del Consiglio, quindi diciamo sono arrivato in un certo ambiente grazie appunto a un cooperare, a un proporre un'iniziativa in quel momento da privato, ovviamente partecipavo all'hackathon e sono arrivato nella pubblica amministrazione. Poi con Agid c'è stato tutto il periodo anche del team digitale di Piacentini e poi di Attias che è stato un momento che ha cambiato molto le cose, è stato veramente utile, lo dico da persona interna che ha partecipato diciamo a questo momento storico e oggi mi trovo al Dipartimento della Protezione Civile dove cerco di dare il meglio e innovare. Presto tra l'altro vi dico che ci saranno delle iniziative abbastanza importanti e magari il prossimo anno ne parleremo più ampiamente. Bene allora, avrei se c'è lo spazio ancora un minuto per una volta la risposta di una domanda che ci è arrivata dalle persone che stanno seguendo e in particolare Davide ci crede se uno fa Responsable Disclosure ma poi non avviene nulla diciamo che l'amministrazione fa finta di non sentire come ci si dovrebbe muovere? Devo rispondere da pubblica amministrazione e dovevo rispondere da vostro amico. Non lo so, questa è una domanda che ci arriva del pubblico. Beh, se una pubblica amministrazione adotta il metodo della Responsible Disclosure Policy deve di fatto sentire il soggetto che notifica una certa vulnerabilità quindi mi viene da dire che se ha implementato questa iniziativa questa metodologia all'interno dell'amministrazione sia matematico che qualunque notifica venga ascoltata ovviamente ecco diciamo la cosa poi ovviamente ci sono dei tempi entro le quali la pubblica amministrazione deve deve correggere la vulnerabilità perché se poi vogliamo parlare del tema white hat e black hat un white hat può segnalare la vulnerabilità non viene corretta arriva un white hat e purtroppo la vulnerabilità poi non viene notificata e viene semplicemente utilizzata bene allora grazie per questa volta risposta finale siamo arrivati al termine io non posso far altro che dirti nuovamente grazie per essere stato qui con te e condiviso la tua esperienza ciao Umberto a presto a presto grazie a tutti ciao